C'era una volta un pipistrello che si chiamava Brighello. Lui abitava tutto solo in una torre alta alta di un castello vicino ad un bosco. Questa torre però era tutta piena di buchi, di spifferi e ci entrava tanto freddo e quando faceva il temporale il povero pipistrello si sempre zuppo e fradicio. Brighello, poverino, non ce la faceva più, così sentì che ne aveva abbastanza e una notte decise di andare via dalla sua torre umida e sgangherata. Quella notte era proprio quella di Halloween ed era tanto buia, c'era anche qualche lampo in lontananza, ma Brighello prese coraggio e volò via lo stesso deciso a trovare una nuova casetta. Cominciò a cercarla nel bosco vicino al castello e, vola vola, nel bosco incontrò un gufo. Buonasera signor gufo. Buonasera a te pipistrellino mio. Dimmi, cosa ci fai in giro con questo buio nella notte di Halloween? Non vedi che là ci sono dei lampi, forse arriverà il temporale. Il pipistrello decise quindi di raccontare tutta la sua storia. Io mi chiamo Brighello e abito nella torre del castello, che ha un sacco di buchi, è brutta, rotta e piena di spifferi. Ci abito tutto solo e sto cercando una nuova casetta. Mi puoi aiutare, signor gufo? E il gufo gli rispose. Io abito in quest'albero, dentro quel buco, però per te caro pipistrello mio non c'è posto. Brighello ci rimase un po' male. E vabbè, andrò in cerca di un'altra casetta. Grazie lo stesso, signor gufo. Salutò il gufo e continuò a volare nel bosco finché non incontrò una volpe. Buonasera signora volpe. Buonasera pipistrello. Cosa ci fai in giro con questo buio nella notte di Halloween? Brighello allora raccontò la sua storia anche alla volpe. Io mi chiamo Brighello e abito nella torre del castello, che ha un sacco di buchi, è brutta, rotta e piena di spifferi. Ci abito tutto solo e sto cercando una nuova casetta. Mi puoi aiutare, signora volpe? La volpe allora gli rispose. Io ti darei anche un lettino nella mia piccola tana, però sta sottoterra e i pipistrelli come te non riescono a volare lì dentro. Sarebbe una trappola per te. Brighello ci rimase un po' male. Vabbè, andrò in cerca di un'altra casetta. Grazie lo stesso, signora volpe. Salutò la volpe e continuò a cercare. Questa volta uscì dal bosco e si ritrovò sopra un grande prato dove la luna ogni tanto riusciva a farsi vedere in mezzo alle nuvole scure e minacciose. Vola, vola e vola, a Brighello venne in mente una idea. Chiederò aiuto alla luna. Così Brighello volò sempre più in alto finché non riuscì a vedere in viso la luna che stava sonnecchiando. Buonasera, signora luna. Buonasera a te, pipistrellino mio, disse la luna sbadigliando. Cosa ci fai in giro con questo buio nella notte di Halloween? Il pipistrello prese coraggio e raccontò tutta la sua storia. Io mi chiamo Brighello e abito nella torre del castello, che ha un sacco di buchi e è brutta, rotta e piena di spifferi. Ci abito tutto solo e sto cercando una nuova casetta. Mi puoi aiutare, signora luna? La luna gli rispose. Buon pipistrello mio, vola verso la montagna. Lì dovresti trovare una grotta dove abitano tanti pipistrelli come te. Sono sicura che accetteranno ben volentieri la tua compagnia e ti lasceranno stare con loro. Grazie, grazie infinite, signora luna. Non so come ringraziarla. E, salutata la luna, Brighello iniziò a volare verso la montagna. Arrivato lì, vide la grotta e vide che dentro c'era della luce. Fu subito fermato però da un pipistrello che faceva la guardia all'ingresso. Chi sei tu? Cosa ci fai qui? Io mi chiamo Brighello e abito nella torre del castello, che ha un sacco di buchi, è brutta, rotta e piena di spifferi. Ci abito tutto solo e sto cercando una nuova casetta. Sentito il racconto di Brighello, la guardia gli disse. Allora penso proprio che tu abbia trovato la tua nuova casetta. Entra dentro la nostra grotta, sono sicuro che tutti i miei amici pipistrelli ti accoglieranno ben volentieri. Tra pipistrelli ci si deve sempre aiutare. Davvero posso stare con voi? Rispose tutto emozionato Brighello. Ma certo, anzi, proprio stasera stiamo facendo una festa per Halloween e la festa diventerà ancora più bella se si aggiunge un nuovo amico. Vieni con me. Il pipistrello di guardia prese Brighello e lo portò al centro della grotta, dove si stava cantando, ballando e festeggiando. Fermi tutti, disse la guardia. Voglio presentarvi Brighello, un pipistrello solo soletto in cerca di una nuova casa. Dal gruppo di pipistrelli parlò uno di loro, che doveva essere l'anziano saggio, capo della tribù. Se vuoi, caro pipistrello mio, questa sarà la tua nuova casa e questa la tua nuova famiglia. Brighello non stava più in sede alla gioia, tanto che riuscì solo a dire un fortissimo sì! Allora tutti i pipistrelli corsero ad abbracciarlo e salutarlo e subito dopo ripresero le danze in suo onore. Da quel giorno Brighello non fu più solo, aveva finalmente trovato una bella casetta e, cosa più importante, aveva trovato tantissimi amici.